I lavoratori del settore nucleare russo stanno lavorando alla creazione di armi avanzate capaci di mantenere l'equilibrio strategico nel mondo. Lo scrive il presidente Putin in un telegramma di congratulazioni per i lavoratori di Rosatom all'agenzia nucleare statale russa che nell'ultimo anno ha offerto le sue conoscenze e i suoi mezzi alle aziende statali belliche. Una nuova minaccia dunque da parte del presidente russo che avrebbe chiesto al ministero della difesa e all'agenzia Rosatom di rispondere a qualsiasi testo condotto dagli Stati Uniti con altri testa nucleari.